Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, il mio nome è Rossella Pani. Oggi faremo la nuova lettura angelica valida per una settimana, a partire dal 3 al 10 febbraio 2024. Vi chiedo scusa se non sono riuscita a fare la lettura nei tempi, però sono stata impegnata a fare dei video che portano delle informazioni abbastanza importanti per chi magari è già avanti nel cammino spirituale. Volevo mostrarvi questa foto, vi piace? Le nuove frequenze di luce con l'Arcangelo Michele e una delle nuove carte del mazzo dell'Arcangelo Michele che presto pubblicherò se vi vuole. Iniziamo la nostra lettura, iniziamo con una preghiera di protezione e chiediamo guida ed assistenza all'Arcangelo Michele. Vediamo cosa ci vuole dire per questa settimana, per il nostro massimo bene e il massimo bene supremo. Quindi invoco la divina presenza di Dio Dea onnipotente, padre e madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono, seguono le mie letture angeliche, attendono risposta, guida ed assistenza. In nome dell'amore Arcangelo Michele ti chiedo di purificare le nostre intenzioni, parole ed azioni, ti chiedo di allineare la nostra energia nella direzione della saggezza, della verità e dell'integrità, ti chiedo di liberarci dall'ego, dalla paura, dal giudizio, dalla competizione, da tutto ciò che ho posto all'amore vero e puro e sincero. Con amore Arcangelo Michele ti chiedo di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra e di creare uno scudo di protezione completo, impenetrabile all'oscurità dove possa entrare solo la luce. È l'amore più puro e vero di Dio Dea onnipotente, padre e madre. Chiedo massima protezione fisica e psichica in tutti i livelli. Ora, per sempre e per l'eternità, grazie caro Dio, grazie Arcangelo Michele, grazie al Maestro Gesù, grazie all'intera coscienza micaelica, è fatto, è fatto, è fatto e così è e così sia ora, per sempre e per l'eternità. Ok, è già uscita una carta, innocenza, vediamo un po'. Non divido più in gruppi, faccio la lettura completa, cercate di recepire i messaggi giusti per voi, per il vostro sacro cuore. È venuto il momento di lasciare andare questa situazione negativa. stai forzando troppo gli eventi, ecco sono uscite due carte contemporaneamente, una la persona di cui stai ponendo la domanda è una persona di fiducia e l'altra guidati della tua guida interiore, la tua guida interiore è affidabile. Interessante questa cosa, vediamo le carte delle fatte, il nome dell'amore, cari angeli, care fate, che messaggio avete per noi? I messaggi diventano realtà, si legge vero? I sogni diventano realtà, i messaggi sì. Ok, andiamo un po'. Rispetta i tuoi veri sentimenti. Vediamo un po', che bello questo angelo che ho dietro di me, l'arcangelo Michele è veramente stupendo. Pace interiore, anime infinite. Ragazzi, la via maestra dell'amore, perché ho scritto questo? Perché l'arcangelo Michele mi disse affidati a me e Dio ti mostrerò la via maestra. Non ha mentito, ha sempre detto la verità, la via maestra dell'amore è quella del perdono, della compassione, ma è anche quella della gioia, della verità, della saggezza e dell'integrità, ma è anche quella dell'abbondanza, è anche quella della pace, della bellezza. Rinascita anime infinite. Che bello! Beh, queste carte mi piacciono, è una lettura abbastanza importante, compassione, vedete? Parla di compassione, anche gli unicorni che sono esseri luminosi, supporto nel tuo scopo divino e nel tuo progetto e poi prenderemo. Ragazzi, oggi voglio prendere una carta dal mazzo di Rhonda Byrne, che è quello che ha scritto The Secret, questo mazzo l'ho ordinato dall'America, chiedo a te Michele di darci messaggi più giusti, chiedo alla nostra essenza, qual è il messaggio all'unisono più giusto per il maggior numero di persone possibili, vediamo qual è la nostra frequenza, secondo la legge dell'attrazione, caduta una carta, anime belle, la leggeremo dopo. Tu sei un essere eterno, ok? Poi la leggeremo, bellissimo, bellissimo. Ok, vediamo un po'. Iniziamo con le carte di Michele. Diciamo che si parla di innocenza, si parla di questa persona che merita la tua fiducia, è un'anima pura, è un'anima gentile, magari ha avuto dei problemi, magari non è stata troppo gentile con te per una serie di situazioni, ma quest'anima merita la tua fiducia perché è un'anima di luce, è un'anima allineata all'amore, va bene? Devi seguire il tuo sentire, dicono gli angeli, perché la tua guida interiore è esatta, tu sai, tu conosci la verità, tu sai che ti puoi fidare di lui, tu sai che ti puoi fidare di lei. Ascolta il cuore e lascia andare la mente che mente e lascia andare l'ego perché l'ego ti distrae, l'ego ti confonde, l'ego crea anche conflitto tra le anime. Per me, perdona, perdona, lascia andare, lascia andare, guarisci il cuore, la tua parte interiore ha bisogno di essere guarita, di essere, è bisogno di sentire la faccia nel cuore, e quel processo del perdono ti può aiutare in questo, esci dal controllo, esci dall'ego e dalla paura perché ti stanno incasinando, va bene? È venuto il momento proprio di lasciare andare questa situazione negativa, smetti di forzare, smetti di giudicare, smetti di pensare male, riconnettiti alla gioia, riconnettiti all'amore perché c'è tanto per te che sta arrivando, i tuoi sogni diventeranno realtà. Quindi devi solo avere fiducia, devi avere fiducia perché veramente sta arrivando qualcosa di grande per te. Devi avere, devi allineare la tua energia nella frequenza della gratitudine, della gioia, dell'entusiasmo, della pace, della bellezza. Mi raccomando, ascolta il cuore, rispetta i tuoi sentimenti, va bene? Perché i tuoi sentimenti sono puri, qua c'è anche la carta dell'innocenza, è rivolta a quella persona ma è anche rivolta a te, sei un'anima pura, quindi abbi rispetto dei tuoi sentimenti, di questo amore che hai dentro, di questa gioia che hai dentro. Voglio dire, ascolta l'anima, ascolta dove l'anima ti sta guidando perché è nella direzione giusta e quando tu sentirai la pace interiore, la pace nel cuore, significa che quella è la via, la via maestra dell'amore, la via maestra da seguire, va bene? Bene, ci sono energie nuove, quindi è come una rinascita per te, un vecchio ciclo che si chiude, un nuovo ciclo che si apre, quindi c'è abbondanza infinita per te, va bene? Diciamo che devi iniziare a vivere la vita dei tuoi sogni, a fare anche le cose che ti piace fare e se non sai cosa ti piace fare, inizia a fare qualcosa di nuovo, vedi se ti piace, se ti piace continua a farlo, sperimenta, vai al mare, vai in montagna, vai a fare una gita, vai a fare esperienze nuove, se hai confusione dentro di te, connettiti con la natura, va bene? Sei invitato a creare una nuova realtà, perché un nuovo ciclo si sta aprendo davanti a te. Abbi compassione, ripeto, della persona per cui hai chiesto, diciamo, hai posto la domanda, ma anche per te stesso, per te stessa, perdonati e perdona, perdona e impara, sii gentile con te stesso e con te stessa, amati, guardati allo specchio e benediciti, c'è bisogno di benedizione, benedire noi stessi ci aiuta a sentirci degni e meritevoli, questo è importante, lavora sul sentirti degno, degna e meritevole, di ricevere la bellezza, di ricevere l'abbondanza, di ricevere la gioia infinita che meriti per diritto di nascita, i tuoi progetti sono protetti, i tuoi progetti sono al sicuro, la tua missione dell'anima è a restare ricevendo un grande supporto dai piani alti, tu sei protetto, chiedi aiuto, se c'è qualcuno che ti può aiutare, abbi il coraggio di rivolgerti a questa persona, a queste persone, chiedi aiuto e vedrai che riceverai il supporto, va bene, chiedi e ti sarà adatto, le energie sono molto belle, sono molto potenti, sono molto allineate, devi solo tu un attivino centrarti, perché l'esterno è pari al tuo interno e se tu ti connetti con la tua pace, troverai pace anche all'esterno, va bene, ok, vediamo un po' questa carta meravigliosa, guarda un po' intorno a te, guarda il mondo intorno a te, ok, nulla può esistere senza di te, non ha importanza quali erano i tuoi pensieri, tu conosci la verità di chi tu sei veramente, tu sei il maestro e la maestra dell'universo, tu sei un luogo di saggezza, tu sei la perfezione nella vita, è quello che ha detto Michele due secondi fa, il tuo interno rappresenta il tuo mondo esterno, il tuo mondo esterno, se è caotico, riconnettiti alla pace dentro di te, se non sai come fare, fai un lavoro di trasmutazione, attraverso un processo alchemico, del piombo in oro, trasformazione del piombo in oro, come perdono, come affermazioni, come riprogrammazione, esistono tanti strumenti anime infinite, ma se non sai come fare... puoi anche rivolgerti a chi ti può aiutare, a chi ti può insegnare degli strumenti, ok, io insegno queste cose, le insegno, ma le insegno in nome dell'amore, in nome dell'amore, l'allineamento all'amore, ragazzi, io questo ve lo voglio dire con tanto amore, le energie stanno cambiando, ok, quindi adesso c'è un E più potente, le frequenze sono più potenti in nome della luce dell'amore, è più semplice manifestare in nome dell'amore che nell'ego, ve lo posso garantire, abbiamo più aiuti spirituali, c'è più forza energetica, c'è più potenza energetica nel manifestare i nostri sogni in nome della luce dell'amore, dobbiamo avere fiducia nell'amore, lasciar perdere il mondo là fuori e sembra che sia tutto un casino, è un po' è giusto che sia così, non è giusto, cioè è giusto che stia crollando questa finzione dell'ego, capite? Ma un nuovo mondo sta rinascendo e deve nascere da dentro di noi, perché attraverso la nostra trasformazione noi contribuiamo a portare un nuovo paradigma d'amore sulla terra, la tua gioia anima infinita è la gioia di Dio e porti gioia alle persone, non sentirti egoista di sentire gioia e amore perché la tua tristezza, la tua depressione e toccare il fondo non aiuta nessuno, tu puoi aiutare gli altri se in primis aiuti te stesso e te stessa, ok? Bene, anima infinita è la nostra fantastica lettura angelica, i messaggi dell'Arcangelo Michele è finita per questa settimana, volevo ricordarvi che mi occupo di fare anche delle sessioni private, di coaching, di letture angeliche e di guarigione energetica, naturalmente sono, cioè non sono tantissimi posti perché sono molto impegnata con i miei corsi, con la formazione di video, la scrittura del libro, insomma sono tante le attività che svolgo, però qualche posto c'è disponibile per le sessioni one to one, se invece vuoi partecipare ad uno dei miei corsi volevo informarti sulle nuove date, se vuoi imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce, allora il corso di connessione angelica è già iniziato, vi ho mostrato il video, se non l'avete visto guardatelo perché è bellissimo, ve lo allego qui su, mi devo ricordare di fare questo, va bene, e comunque ripeto il corso di connessione angelica è iniziato, il corso di guarigione inizierà il 18 marzo che dovrebbe essere sempre online di nove settimane dove imparerai tutto sulla guarigione, imparerai tutto sul logo sealing, riceverai delle quattro guarigioni che sarò io a facilitare su di te, è un bel pacchetto anima infinita, non so se hai visto tutte le testimonianze, se non le hai viste guardale perché le persone sono entusiaste di questo percorso di riallineamento all'amore e di riequilibrio energetico, va bene, sia come ho detto prima il 18 è lunedì, quindi lunedì 18 marzo per nove settimane, due ore alla settimana, è una potenza, ok? Se invece vuoi vivere l'esperienza delle nuove frequenze di luce dal vivo in presenza, quindi vuoi conoscermi di persona, vuoi vivere il contatto con altre anime perché è fantastico, puoi fare delle amicizie bellissime, vivi le frequenze, le senti, già le senti dal punto di vista online, sono potenti, dal vivo in presenza, la cosa è esponenziale e questo corso, questo seminario partirà sabato 23 marzo per due giorni, 23-24 e poi 25-26 il seminario di connessione al sé superiore, quindi quattro giorni, 24 ore di formazione ragazzi, un full immersion nelle nuove frequenze di luce, va bene, e in più riceverai tre guarigioni e non solo, anche la connessione al sé superiore, puoi anche decidere di partecipare solo al seminario di guarigione, se invece hai già fatto dei seminari di guarigione con me e vuoi accedere al seminario connessione al sé superiore, puoi farlo, va bene. La prossima data del seminario in presenza di guarigione, se non riesci a marzo, sarà a maggio, dal 25 al 28 maggio 2024 a Roma, la città dell'amore, anime infinite, portiamo le nuove frequenze di luce, portiamo gli insegnamenti dell'arcangelo Michele anche a Roma, quindi se sei interessato, se sei interessata a non esitare a contattarmi, anche perché i posti sono limitati. Io ho visto, c'è una selezione, nel senso che vorrei essere precisa, ci tengo, è importante che sappiate che io lavoro con l'arcangelo Michele, con la coscienza micaelica, va bene, quindi questo è un lavoro per chi si sente pronto per gli insegnamenti molto alti ed elevati dell'arcangelo Michele. Io vi saluto, vi abbraccio, un bacione immenso e a presto. Ciao anime infinite!